Buongiorno a tutti. Questo non sarà un video molto lungo. Fornirò un link nella descrizione. E ti porterà a un altro video. Quando arrivi all'altro video. Leggi il commento in alto. Avrai un'idea. Ho avuto questo vecchio senza denti e con un cappello di paglia. Ha fatto. Lo vedrai da solo. Quindi, come ho detto, questo sarà un video breve, molto breve. Nella descrizione. Ci sarà un collegamento. Clicca su quel link. E guarda l'altro video. E leggi. Il commento di Trekmaster. Ha fatto molto. Molto bene. E potresti vedere di persona. Grazie per aver guardato. E per favore iscriviti. E dai un pollice in su.